Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Due inquilini della casa del grande fratello 2023 stanno dimostrando di piacersi molto Ecco cosa hanno fatto nelle ultime ore appunto nella casa del grande fratello 2023, sembra che stia nascendo una nuova coppia Gli interessi romantici sono parte integrante del reality show Durante lunghi mesi di permanenza e di convivenza forzata, infatti, non è difficile affezionarsi agli altri concorrenti Tale avvenimento era nell'aria già da un po'. Adesso, però, la situazione pare aver preso una piega ben precisa I due non fanno altro che scambiarsi tenerezze e parole colme di affetto Nell'ultima settimana, il loro rapporto è cresciuto fino a spingere i fan a sognare la nascita di un vero e proprio legame sentimentale GF 2023, due concorrenti sono sempre più vicini, i fan pensano già alla nascita di una nuova coppia I fan del grande fratello non vedono l'ora di assistere alla nascita di nuovi amori all'interno della casa Con il passare del tempo, sui social network, si formano dei veri e propri schieramenti Questo non fa altro che alimentare il successo del programma e dei concorrenti stessi Di recenti, due inquilini dell'attuale edizione si sono avvicinati moltissimo Il loro rapporto è cambiato, fino a trasformarsi in qualcosa di più profondo Se sta parlando di Vittorio Menozzi e Greta Rossetti I diretti interessati non perdono occasione per scambiarsi tenerezze e parole colme di affetto Le telecamere, poco prima della consueta festa, li hanno immortalati sul letto, in un momento di tenerezza Il loro abbraccio ha fatto sciogliere il cuore dei fan e ha tirato l'attenzione dei principali canali di gossip Il modello non ha potuto fare a meno di sorride e di darle un bacio tra i capelli Anche l'ex protagonista di Temptation Island è apparsa totalmente a suo agio La scena è andata avanti per diversi minuti Sembravano totalmente presi l'uno dall'altra Probabilmente, tra loro, sta nascendo qualcosa di romantico Non bisogna sottovalutare, però, la presenza di Sergio Dottavi Quest'ultimo non pare intenzionato ad arrendersi Dopo l'episodio a colazione e le frasi contro Vittorio, probabilmente, si metterà alla ricerca di altri modi per conquistare il cuore della ragazza Il pubblico desidera che il sentimento tra Vittorio e Greta cresca ulteriormente Lei allontanerebbe completamente il pensiero di Mirko Brunetti dalla sua vita e lui, finalmente, avrebbe un'occasione per vivere l'amore tanto desiderato La speranza è quella che, nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini faccia vedere delle nuove clip dedicate a loro